amici bentornati sul canale oggi location diversa dal solito siamo a casa miglia allora voglio dare un'occhiata alla lavatrice in pratica ho un problema in fase di centrifuga e di movimento del cestello si muove esageratamente effetto taga da sembra quasi che si nasce fuori dalla lavatrice il 99 per cento delle volte diventa gli ammortizzatori però ora la dibalto e prova a vedere un attimo quale può essere il problema prima di ribaltare la lavatrice stacchiamo la corrente della lavatrice e chiudiamo il rubinetto del carico acqua è proprio come pensavo allora l'ammortizzatore a terra è agganciato e sta qua quello di sopra come potete vedere se ne è uscito eccolo qua quindi se proprio staccato dalla carcassa della lavatrice in quanto comunque premetto che comunque una lavatrice che ha sei anni e quindi il ferro si è comunque deteriorato eccolo qua quindi quello che faccio adesso ora visto e considerato che si è distaccato dalla struttura questo bolloncino è ravvitato sulla struttura in questo modo così però si è comunque staccato allora quello che faccio adesso dato che ho già dei buchi predisposti qua mi faccio una piastrina e l'applico qua sopra il bolloncino lo vado ad avvitare sulla piastrina e la piastrina la vado ad avvitare su questi fori che ho già qua quindi mi segno con un pezzo di carta come stanno predisposti fuori e vado a fare la piastrina e mi trasferisco in garage ok quindi passano di un 45 centimetri quindi l'applico all'interno in modo tale da potermi segnare e mi segno i fori come posso effettuarli eccolo qua quindi i fori che ho all'esterno ci applicherò un bulloncino e un dato per potermi fissare sulla piastra sulla struttura invece questo centrale lo farò leggermente più largo da poterci inserire il bullone dell'ammortizzatore della parte di sotto dell'ammortizzatore allora ci trasferiamo in garage vedo un po quello che ha a disposizione e ci vediamo tra poco eccomi trasferito in garage allora lo restano tre pezzi di scarto di ferro che avevo ho trovato questo pezzetto di lamierino da due millimetri e lo posso adattare al calco che avevo fatto sotto la lavatrice l'unica cosa lo ritaglio un po perché sennò non c'entra sotto la lavatrice allora una volta modellato inizio a fare anche i fori per poterci fissare le piglie di conseguenza l'ammortizzatore allora inizio a tagliare ci vediamo tra poco disco da taglio è pronto mi raccomando usate sempre occhiali cuffie e guanti la sicurezza prima di tutto adesso con il flex vado a rimuovere la bava che mi ha fatto effettuando i fori allora questo è l'ammortizzatore che ho rimosso da sotto la lavatrice la prima cosa devo andare a rimuovere la parte di ferro che con la ruggine si è andata a spaccare di conseguenza ha fatto cadere l'ammortizzatore quindi svito il bulloncino e rimuovo questa parte di ferro questa la parte di lamiera della lavatrice che è rimasta allora la piastra di ferro l'ho fissata acqua sopra adesso quello che devo fare con un paio di diti a testa piatta da due centimetri di lunghezza diametro 6 le vado ad installare qui sopra dopodiché il tutto lo vado a fissare sulla struttura della lavatrice allora la prima cosa stringiamo per bene il dato che ho messo per l'ammortizzatore dopodiché lo vado a fissare prima di fissare naturalmente l'ammortizzatore sulla carcassa dobbiamo infilarlo nella parte superiore in questo modo ora ammortizzatore infilato dobbiamo fissare la piastrina sulla carcassa poi dado e rondella e fissiamo il tutto allora ho rimontato il tutto ho riattaccato la corrente che ha aperto l'acqua l'ho riposizionato anche la lavatrice muovendo il cestello con le mani cosa che prima già semplicemente facendo questo movimento il cestello batteva addirittura sulla parte posteriore della lavatrice ora il movimento è molto più atturito quindi io penso che l'abbiamo messo a posto ora vediamo naturalmente la lavorazione in corso come si comporta e questo è tutto allora se il video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace e iscrivervi al canale naturalmente se non l'avete ancora fatto e vi aspetto sul canale per altri progettini e per altre piccole riparazioni per ora vi saluto ciao ragazzi a presto